Non mi candiderò a sindaco è quanto ha affermato di recente Gabriele Zelli, considerato il papabile futuro primo cittadino per la successione del centro-sinistra all'attuale sindaco Davide Drei e attualmente non è ancora stato presentato un nome. Personalmente a luglio 2018 dissi personalmente che non ero disponibile a candidarmi avendo avuto un voto diretto da parte di oltre 48 mila persone che mi hanno scelto nel collegio uninominale per rappresentarle alla Camera dei Deputati e disse anche in quella circostanza che era necessario individuare la candidatura di una figura esterna alla politica tradizionale attorno a cui anche la politica tradizionale ma soprattutto le forze della società civile potessero in qualche modo aggregarsi. Non so poi cosa sia accaduto, cosa abbia impedito di fare questo tipo di scelte, oggi però dobbiamo fare i conti con il presente e soprattutto con il futuro e mi auguro davvero che in un modo o nell'altro si proponga un'alternativa perché comunque ci sono tante persone che se l'aspettano e soprattutto che vogliono tornare a credere in qualche cosa che possa opporsi a chi già oggi si è presentato ed è in campo. Io mi auguro che chi ha le responsabilità politiche di decidere di individuare la strategia e anche le figure su cui convergere e da presentare ai cittadini in tempi rapidissimi offre una soluzione, una soluzione che a mio modo di vedere deve essere in grado di attirare anche le tante forze che ci sono nella società civile che non si riconoscono nelle proposte che sono avanzate dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega ma è il momento di decidere, è il momento di correre, è il momento di dare un'alternativa alla città.